musica musica bene a tutti ragazzi oggi è iFlex che vi parla prima di lasciarvi al video volevo dire solamente una piccola cosa raga io non voglio abbandonare voglio continuare insieme a voi in questo bellissimo viaggio però non posso andare avanti da solo ho bisogno di voi quindi raga dimostratemi che ci siete vi lascio al video bella quindi raga eccoci in partita siamo nel primo livello con tanta bella gente a parte ci sono anche dei francesi questa cosa non è buona già sono morto perciò vabbè vediamo di vincere non perdere contro i francesi perché dobbiamo rappresentare l'italia giusto confermo confermo perché in pratica lo stiamo registrando di mattina e siete tutti a scuola con te dandy ha fatto campagnola no bastardo perché io no perché sei cattivo no di quanto guarda giumbotonic quello che abbandona bello che ha abbandonato ero biomeccanico ah ero brain ma se la fai a farlo un cazzo di livello oh ma che vuoi ma ti pare che mi spacco nella mattina alla sera per provare questi livelli come fai tu lo sapete che fa dandy la sera quando non c'è niente da fare si mette nel server e prova tutti questi minigiochi così poi fai il pro game pro player eh se io faccio gh faccio ma che posto hai il primo secondo l'inferno eh dirgli di perderlo ha fatto pure il secondo no ma guardalo ok vai che ha vinto? giumbotonic yeeeh giumbotonic ha vinto ma lo devo finire pure io se no il video non finisce conviene in pratica questo video più che altro per farvi vedere le mappe è finito pure il biomeccanico ora sto a fare il terzo livello il biomeccanico vinto ma ne manco adesso ci arrivi ah oh ma non cagare il cazzo ah gufo di merda che tu vuoi che perdo ciao 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 Minchia zi ma anche solo te tutti hanno fatto il primo livello Oh ma io sono un po' di... Ma vabbè io me la sto prendendo con calma Tanto per studiarmi la mappa Prima si studia Poi si ammira la sua bellezza E poi si finisce Vedi qua che l'ho finito Guarda che la mappa l'hai fatta te per dirti Ma è vero tu l'hai fatta questa mappa Ok raga siamo nel secondo livello Vabbè quello è la lobby Tanni mi do a risparare la mia madre Ma vabbè Ma salutate il pro Ma salutatelo A primo colpo A primo colpo Ma se il livello è troppo facile Ma che cazzo dice che sono io che sono forte E ti griffo pure la mappa Vabbè Tipo mi ne è l'ultimo Mi sto griffando la mappa Ah ecco qua c'è la lobby bella E siamo all'ultimo livello Ok in due ce l'hanno fatta non ci svegliere Solo io manco C'è ma l'altro Sì sì C'è giumbotonic e biomeccanico Ho sbagliato strada Chi cazzo Ok ho vinto L'ho citato la domanda Terzo bravo Eeeh sono arrivato a rimorchio Scusate il ritardo Ciao che cazzo c'è esulti Pure tu che ci guardi Perché non mi fa sparare Eeeh ho vinto io Eeeh ho eeeh ho eeeh ho eeeh ho eeeh o eeeh ho Eeeh ho eeeh ho liked Per questo Graviti è tutto Ditemi sotto gli invites se volete altri miei episodi di Graviti Più che altro faccio solamente una partita Per farvi un po' vedere com'è il minigioco in sé Eeeh Ci sono anche dei francesi a giocarlo Quindi immaginate Che va anche da grado Quindi ragazzi per questo video è tutto Ditemi se volete altri episodi di questo minigame arriviamo a 51 like per questo nuovo minigame su ps4 non vi... pure che si fanno tutti gli scaltri questi qua fuori territorio mio quindi ragazzi per questo video è tutto ci da un prossimo video di Giovanni Giunta lasciate un like e un commento iscrivetevi al canale da Dandi è tutto no da Dandi minca dai ma è tutto bella piella ancora che c'è sul ti sei fuori oh guarda che mi ha chillato dammi la spada no dammi la spada vabbè me la citto ma starti di merda li faccio vedere io chi comanda no no aspetta prima ti devo far vedere chi comanda ma come to così imparate ho vinto le a dirà il coso citer di merda ma sei l'increativa come mi hai chillato ancora che ci esulti sei ti ammazzo ti ammazzo tutto tutto ciao 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 Grazie per la visione!